salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video oggi effettueremo delle codifiche su audio a6 4g andiamo ecco qui all'interno della macchina eccoci qua per quanto riguarda il collegamento dell'obbd alla macchina lo dobbiamo andare a collegare sotto qua c'è una porta ecco qua questa qua dire andiamo a collegare l'obbd alla presa perfetto e adesso andiamo ad aprire l'applicazione ecco qua allora una volta collegato l'obbd alla presa dalla macchina prendiamo il telefonino e ci abbiamo l'applicazione l'applicazione è questa qua obbd 11 ok allora una volta aperta l'applicazione basta connettere l'applicazione all'obbd in questo caso ci chiede la richiesta dell'autorizzazione per attivare il prodotto consentiamo consenti ecco qua adesso si sta connettendo il programma l'applicazione all'obbd aspettiamo qualche minuto ecco qua una volta individuo dalla macchina un audio a6 come avete visto andiamo a fare su scansiona in questo caso inizierà a scansionare tutte le centraline della macchina in questo caso sono 31 centraline così da controllare eventualmente qualche errore qualche allarme o altre cose attive e andarle prima a cancellarle e poi andare a fare codifiche semmai questo procedura qua la velocizzo un poco così da non far diventare il video un po' troppo lungo ecco qua una volta fatta la scansione tutte le centraline ci da due vedete due unità di controllo guasti comunque errore andiamo a fare la scansione della pulizia e vediamo se le riesce a risettare all'interno poi di questo modulino qua possiamo andare a vedere quale centralina ci da errore poi per iniziare a fare le prime codifiche basta cliccare sul veicolo della macchina ecco qua ci da bene tutte le informazioni della macchina informazioni storie applicazioni dati live tutte le altre cose che se abbiamo già fatto ce le dici in questo in questi menu qua andiamo su applicazioni e ci da le applicazioni già diciamo originali che possiamo fare già predisposte che possiamo fare per la macchina queste qua sono tutte le applicazioni che si possono fare per questo tipo di veicolo qua già diciamo senza andare intervenire all'interno delle centraline basta tranquillamente andare a cliccare su qualsiasi funzione tipo farvi un esempio ecco qua come fare un esempio adesso le cinture vedete c'è il simbolo delle cinture con questa applicazioni qua basta andare basta andare scorrere in giù in basso clicchiamo dove è la cintura selezioniamo off e andiamo a disattivare la diciamo l'allarme della cintura ciò non significa che non dovete mettere la cintura assolutamente la cintura va sempre messa è solo diciamo questo quando andiamo solo a disabilitare quel fastidiosissimo bip diciamo delle cinture che delle volte ci da ad ogni modo vi ricordo che la cintura va sempre messa e indifferentemente se ve lo avverte la macchina ve lo avverte la cintura va sempre messa andiamo a mettere in da aerop e in cap come stava andiamo a mettere in off selezioniamo qua per conferma ecco qua avete visto le cinture sono state disabilitate e questa qua è la procedura per quanto riguarda il disattivamento delle cinture di sicurezza ragazzi e per oggi è tutto spero che il video vi sia piaciuto vi sia stato utile come sempre vi consiglio di iscrivervi al canale se non siete già iscritti attivate la campanella così dai sempre aggiornati sui miei nuovi video condividete il mio video e mi raccomando lasciate un bel mi piace ok ragazzi per questa sia altra cosa giù nella descrizione dei video mi metterò comunque tutti i miei contatti e magari se vi sapevo altra cosa scrivetelo nei commenti ok ciao ragazzi al prossimo video